Salve a tutti ragazzi, io sono Phoenix e bentornati nell'ombra di Mordor, nel Lucente Signore all'ultima missione secondaria per potenziare l'anello Per... oh, non ho sbagliato Allora, qua in teoria dovremmo, da quanto ho letto, dar la caccia a dei messaggeri che vogliono usare degli esplosivi per controllare le nostre bellissime torri Nooo Madonna Via, tu sei mio Ah Allora, anche tu Orcomondo Corri, che hai le brimbor laggiù Dobbiamo prendere gli Uruk Allora, eh, d'accordo Ragazzi che dobbiamo soltanto correre e catturare Uruk per il momento Per cui non sembra nulla di complicato Per ora Allora, tu sei preso perché non stanno ponendo nessuna resistenza al momento Il che è molto, molto, molto comodo Noi siamo a 4 Meno male, questi qua non corrono tantissimo Ah, aia Male che hai fatto 5 Tu, vieni via con me Allora, noi siamo qua che sta correndo Sta scalando la montagna Oddio Eh sì, caro Sei mio anche tu Nooo Porco mondo Vai Poglia Dai Infame Mio Ne manca uno Ne manca uno solo Mio D'accordo Ok Ti sono gestito così prima che Siamo recuperati Allora Ok Cos'è stato? D'accordo Uno Mamma mia No Dovevo avvicinarsi un po' di più Boia mondo Uh Frecce Miei Un minuto e trenta No che non puoi Ah Sono fatto male anch'io qua Boia de Un minuto e venti Ancora cinque, dai Ce la dobbiamo fare Dobbiamo farcela ragazzi Possiamo farcela Possiamo Uno Dire che non è proprio Il mente Il mio forte Colpire Così a distanza Senza poter rallentare Il tempo Via Quattro Tre Convochiamo per distrarli In modo che non ci rompano Le scatole No Via Altri due Corri Corri Che le brimbo Uno Uno è qua Allora torniamo al lavoro Ne manca uno Corri Salta Mamma mia L'ansia L'ansia Via No Nessuno morirà qui A parte Voi Così Perfetto Prima di completare Usciamo E andiamo Per cui Vi ringrazio tanto per aver visto il video Fatemi sapere cosa ne pensate Con un commentino qui sotto Mi piaccia Condividete E condividete Finalmente siamo riusciti a completare il potenziamento per l'anello E dal prossimo Ovviamente settimana Inizieremo a fare Si sto gesticolando parecchio Inizieremo a fare le missioni principali Mancano quattro Quindi Tre di catture capitani E una contro il combattimento di Contro Sauron Per cui State sintonizzati ragazzi Alla prossima Ciao Ciao